La coltivazione del caffè va dal tropico del Cancro al tropico del Campricorno e l'Illi Caffè compra da 14 origini diverse, distinte e distribuite in questa fascia di produzione. Io sono Luca Turello, sono agronomo, sono responsabile dell'acquisto di alcuni paesi dell'America Latina, come Peru e Colombia. Colombia è un paese stupendo, è un'anima latina che ti conquista. La Illi Caffè iniziò negli anni Ottanta, ha una relazione diretta con i produttori, era l'unica maniera per avere una reale assicurazione della qualità. La qualità inizia nella produzione, inizia in quelli che in America Latina si chiamano fincas, i campi di caffè. In questa condivisione c'è la conoscenza diretta con i coltivatori di caffè. Parlare la loro lingua, vuol dire capire la loro cultura, interpretarla. Ogni anno viaggio una media di 80 giorni, divisi nei diversi paesi di mia responsabilità. In Colombia sono andato a visitare diversi gruppi di produttori che ormai da anni ci conoscono e ci forniscono caffè. È un paese dalle mille sfaccettature, dalle mille realtà. È cultura, è musica, sono sorrisi e buon caffè.